Stasera parliamo di due argomenti, toccheremo due capitoli del libro. Ravnichi dico «Refois le ma?» per la nostra zia che è in ospedale. Assolutamente. Allora «Refois le ma?» Sara bat Virginiam e bat David. Amen. «Refois le ma?» Bessrottovot. Ok, stasera parleremo di salvezza, quello che in ebraico si chiama Yeshua e poi parleremo anche di miracoli. Dottor Messina, buonasera per entrato. Buonasera Rav, non volevo interromperla. Grazie. E anche Madame Rune, buonasera, ben entrata. Ah, c'è anche di Sceva, non la vedo adesso, non la vedo a pezzetti. Buonasera Francesca, buonasera di Sceva, buonasera Miriam, buonasera, e gli altri vi ho già salutato. Anacleto, Corina, no, non sono nessuno in realtà. Buonasera. Ok, va bene, un saluto ad ognuno. Perciò parliamo di salvezza di Yeshua. E dici così il nostro testo. È possibile essere salvati dalle difficoltà? Stasera è un capitolo molto semplice, ma molto importante per ognuno di noi. Per ognuno di noi ha bisogno di quello che è scritto in questo capitolo. Se qualcuno è miracolosamente al testo, pagina 92, ma non penso che nessuno ce l'abbia. Ok. È possibile essere salvati dalle difficoltà? Ed è importante sperarci. Ah, ce l'ha, Claudine, dove ce l'ha? Da dove è che ce l'hai? Allora, l'ho comprato al Tempio, lo vendeva da Bronni. Ah, ok, bene. Ce ne hanno parecchie ancora, chi li vuole. Se qualcuno di Roma ha bisogno, si riferisca a, si chiede a Claudine. O al Tempio, che Tempio è? È a Oriuda, al Tempietto Piccolo. Ok. Perciò qua dice, è possibile essere salvati? Perciò esiste la salvezza. Non che una persona si trova in un problema, in un guaio, in una situazione, e dice, beh, per me è finita qua e non c'è più speranza. No. È possibile essere salvati dalle difficoltà? Ed è importante sperarci, la solita regola che dicevamo altre volte, ci credi una cosa, lo avvicini. Nel bene o nel male, quello che noi crediamo, anche una cosa negativa, se abbiamo paura di una cosa negativa, la traiamo, la legge dell'attrazione, ma anche una cosa specialmente, una cosa positiva, noi riusciamo a trarla a noi, a tirarla a noi. Perciò esiste la salvezza, non per forza una persona che ha un problema deve finire la sua vita con quel problema, devi sperarci, devi crederci e devi sperare che la salvezza di Dio possa arrivare. È necessario però anche fare la propria parte. Ovviamente non soltanto, tante volte abbiamo spiegato che questo mondo è un mondo materiale, perciò Dio ha fatto delle regole in questo mondo, delle regole materiali di come comportarci in questo mondo. Perciò Dio dice, la manna l'ho dovuto mandare anni fa perché era obbligato, perché non c'era sostentamento nel deserto. Però è finita la strada della manna una volta. Perciò la persona non deve, noi come regola non dobbiamo poggiarci con il fatto che Dio farà miracoli, allora io non faccio niente. Questo anche è vietato. Che Dio faccia miracoli è una cosa, ma Dio magari non vuole fare miracoli. Perciò noi dobbiamo da parte nostra fare qualcosa, fare il nostro, come dice qua, è necessario fare la propria parte, sia a livello terreno che con quello che si chiama Ishtadlut. Ishtadlut vuol dire provarci, animishtadel, ci provo, faccio il mio. Devo andare a mettere a posto una cosa, un problema è, vado a fare, fisicamente vado a cercare di metterlo a posto. Perciò dobbiamo a livello materiale, terreno, fare un Ishtadlut e anche a livello spirituale con le preghiere, uno e l'altro. Uno non può spostare l'altro. Perciò se io prego non posso dire, beh, io prego, allora non vado a fare fisicamente quello che devo fare e viceversa io da solo con le mie forze farò senza la preghiera. No, ogni cosa, che sia la guarigione, che sia qualsiasi cosa che abbiamo nella nostra vita, dobbiamo fare qualcosa di terreno, di fisico, ma anche metterci nelle mani di Hashem. C'è scritto che la salvezza di Dio è come un battere del ciglio. Vuol dire, così come tu batti un ciglio, senza accogliere neanche, è una cosa naturale che battiamo un ciglio, ci vuole uno secondo battere un ciglio, dice la salvezza di Dio può arrivare così, come un battito di ciglio proprio, in un attimo. Un attimo prima puoi essere sommerso di problemi, un attimo dopo, tac, la soluzione, la salvezza. Come mille volte abbiamo ripetuto, l'esempio classico qui è Giuseppe. Un attimo prima era in prigione schiavo, dopo un attimo, quello stesso giorno, è diventato il vicere. L'essere abbiamo ripetuto, non siamo a ripeterla. Perciò vedi che c'è la possibilità che le cose possono cambiare. Una delle domande a cui si è sottoposti il giorno del giudizio, vuol dire dopo 120 anni di vita, cos'è? Se si è attesa la Yeshua, hai aspettato la salvezza? Una delle domande che ci faranno è questa. vuol dire? Vuol dire che la salvezza di Hashem è una cosa che noi dobbiamo aspettare, ci dobbiamo credere. È una delle mizzotte che noi abbiamo. Infatti è una delle cose che ci chiederanno dopo 120 anni. Come è stato scritto prima nella voce, in un'altra pagina, in un altro argomento, non bisogna attendere solo la salvezza del galut, dell'esilio, ma in ogni singola disgrazia che mai sia per nessuno di noi, si deve avere fiducia in Hashem. Perciò quando si parla del galut, della diaspora che noi stiamo vivendo da migliaia di anni, che aspettiamo la salvezza, lì ovviamente bisogna aspettare la salvezza, ma non solo quel tipo di salvezza, anche le salvezze magari che ogni persona può avere a livello personale, familiare e così via. Mai sia che nessuno abbia nessun problema, ma quando la persona ha una problematica deve sperare alla salvezza. Si deve avere fiducia in Hashem e appoggiarsi sul Signore che salvi da quella sventura. Come vi ho spiegato l'altra volta, la frase dice che anche quando c'hai una spada sul tuo collo e quello lì ti sta per uccidere, non devi, come si dice, non devi perdere la speranza che forse Dio ti potrà salvare. Anche quando c'hai la spada sul collo, proprio come è successo a Mosè, che si è salvato. Non è fantascienza, sono cose che la Torah ci insegna a vivere con questo. Chi ha vera e propria fiducia in Hashem sarà avolto dal suo Chesed. C'è scritto Una persona che ha fiducia in Dio, la chesed, la bontà di Dio, la salvezza di Dio e tutte le varie parole sinonime avvolgono la persona. Perciò come fai a essere avvolto dalla bontà di Hashem di avere fiducia in Lui? Quando tu hai fiducia in Lui, tutte le sue benedizioni ti avvolgono. Questa è potente questa frase. Hanno già scritto a nome di Rabbenu Haarizal che quando, è uno dei grandi cabalisti del passato, che quando si recitano quotidianamente durante la Amidah le parole Allora, praticamente, noi abbiamo nella Amidah tre volte al giorno nelle preghiere, mattina, pomeriggio e sera, abbiamo la Amidah che è la preghiera principale. Quella composta da 18 più 1, 19 benedizioni. A un certo punto, nella Amidah, diciamo, la frase che dice Kili Shuatecha Kivino Kolayom Noi speriamo nella tua salvezza tutto il giorno. Tutto il giorno, tutti i giorni, noi speriamo nella tua salvezza. si pensi sia alle disgrazie in generale che a quelle a cui si è sottoposti in quello stesso giorno in particolare. Quando noi preghiamo tre volte al giorno, anziché dire parole a vanvera e non capire quello che diciamo, che comunque va bene anche, però cerchiamo intanto di capire, di leggere in italiano e di capire le parole che stiamo dicendo, noi tre volte al giorno diciamo Noi speriamo nella tua salvezza. Cosa dobbiamo pensare in quel momento che noi stiamo dicendo questa frase che noi speriamo nella tua salvezza? Allora si dice, si pensi alle disgrazie in generale per ciò che abbiamo bisogno della salvezza di Dio che a quelle a cui si è sottoposti nello stesso giorno in particolare, magari in quel giorno ti successe qualcosa di male, qualcosa che hai bisogno di salvezza, in quel momento, quel giorno, quando preghi, dici, oh Hashem, io auspico nella tua salvezza. Perciò stai dimostrando che sei lì che aspetti e speri la sua salvezza. Si attende alla salvezza di Hashem e grazie a ciò si otterranno benefici inestimabili. Cosa vuol dire qua? Se tu credi nella salvezza di Dio, la salvezza poi ti arriva. se Dio vede che tu credi nella sua salvezza, anche in casi e situazioni estreme dove in situazioni estreme dove veramente vedi che proprio non esiste una salvezza, però tu auspichi e non perdi fiducia in Dio e dici Dio io aspetto credo nella tua salvezza. Allora qua dice questo credere, questo dire allora succede che che chi attende la salvezza di Hashem e grazie a ciò otterrà benefici inestimabili. Anche perché il ragionamento è anche il seguente Dio è bontà. Ok? Come può Dio quando una persona crede in qualcosa nella sua salvezza in questo caso, come può Dio a mi sfugge la parola in italiano, a io credo in Dio nella salvezza e se la salvezza non arriva cosa succede? Dio mi sta deludendo. Come fa Dio a deludere una persona che aspetta, che crede nella salvezza di Dio e poi non arriva? Perciò quando noi siamo sicuri che la salvezza di Dio arriva, Dio per non deludere le nostre aspettative le manda. Perché? Perché è buono, perché Dio è la bontà, elargisce. Allora, anche se magari una persona non al 100% in quel momento meriterebbe, eccetera, eccetera, ma il fatto che lui lo crede, lo vive e ci crede e lo aspetta e lo dimostra a Dio anche con i fatti, allora questo di per sé scatturisce in Hashem e dice ah, come faccio? Lui è lì che crede. Magari veramente non se lo merita, magari veramente io dovrei fare qualcos'altro, ma il fatto che lui lo crede e lo vive rimandiamo la salvezza. Cosa dite su questo? Che è una cosa molto potente questo concetto qua. Ma la salvezza intesa come cosa, cioè si può anche pregare per la refuascele ma la salvezza anche di una persona malata? Certo. Certo. Ok, chiaro. Mi vengono in mente dei lemmi di Davide Amelech della frase meravigliosa quando dice di Davide Amelech dice butta tutto su Amelech le tue preoccupazioni le tue angosce le tue qualsiasi cosa hai nel cuore che ti turva buttalo su Amelech lascia fare a lui ovviamente abbiamo detto all'inizio tu fai il tuo e Amelech farà il suo questo sì però di base dobbiamo ricordarci che tutto è da Amelech poi vedremo un altro concetto più avanti perciò se ci credi Dio non ti lascia la bocca asciutta è stato già detto che nel Michelet il cavallo è pronto per il giorno di guerra ma la salvezza è risposta in Hashem ovviamente questa è una metafora è un modo artistico poetico di menzionare che cosa infatti dice ossia si facciano i preparativi ordinari per ciò che è necessario perciò il cavallo è pronto per la guerra ma si tenga sempre in considerazione che la salvezza non dipende dai cavalli ma da Hashem è chiaro infatti che tutti hanno l'obbligo di compiere la propria Ishtadlut il mio provare a fare qualcosa perciò è obbligato da parte nostra di fare qualcosa un impegno per tutto ciò che è in mano propria quello che è in mano mia io devo farlo io non posso fare quello che mi è impossibile ma quello che mi è possibile umanamente lo devo fare sia in prima persona che attraverso altri per salvarsi dalle disgrazie in modo naturale attraverso altri vuol dire il dottore l'avvocato il commercialista il psicologo quello che sia perciò quello che io riesco a fare lo devo fare al massimo quello che io riesco a fare chiedo aiuto a chi magari è in quel campo lì però poi devo sapere che questo è soltanto dei dei tramiti però alla fine anche se il cavallo è pronto per la battaglia chi fa vincere la guerra è Dio che vince la guerra vedete questo è un concetto molto particolare e a volte un po' strano nella Torah che dice che qua dice ciò nonostante non si riponga fiducia nella propria Ishtad Lut e neppure nel fatto che Hashem farà la cosa migliore anche se non si fa nulla perché è vero che egli può instillare nel cuore di chi di chi che sia qualsiasi volontà ma è possibile che ci siano dei calcoli che sfuggono per esempio che non è il massimo che si compia la propria volontà oppure Hashem desidera che quella persona espiui parzialmente i peccati allora spiego qua dice così scusa ma forse questo racchiude la frase che dice aiutati che Dio ti aiuta assolutamente aiutati che Dio ti aiuta cosa vuol dire non rimanere con le mani in mano a dire quella famosa chiamiamola barzelletta di quello che sta affogando e Dio gli manda le barche lo sappiamo no vabbè la ripetiamo velocemente c'è questo qua che sta affogando arriva una barca vieni vieni che ti salvo no 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 Dio mi salverà uno due tre volte stessa scena alla fine questo qua ovviamente muore annegato arriva in paradiso e dice ma Dio io ho sperato in te fino all'ultimo perché non mi hai salvato e gli rispondono scusami ti ho mandato tre barche perché più di questo cosa devo fare perciò ovviamente dobbiamo sperare in Dio ma dobbiamo anche attaccarci alle barche che Dio ci manda agli aiuti fisici in questo mondo non si può distaccare il fisico dal spirituale viviamo in un mondo materiale dobbiamo vivere in un modo naturale ovviamente sempre sapendo che è tutto in mano di Dio qua dice tu fai il tuo il tuo istadlut la tua come si istadlut l'italiano la tua parte com'è la tua parte tu devi fare la tua parte ma c'è una parola più giusta il dovere il tuo dovere sforzo sforzo forse il suo sforzo più vicino di tutti tu devi fare il tuo provare lo tuo sforzo diciamo così però devi sapere che il tuo sforzo in realtà esula dal fatto cioè se alla fine succede quello che stai aspettando non devi dire eh beh mi sono sforzato e beh ci ho provato è molto difficile è strano da capire Dio dice tu ci devi provare ci devi provare perché è una cosa normale vivi in questo mondo fisico materiale e devi adeguarti alle regole del mondo perciò devi fare qualcosa benissimo devi andare da dottore quando stai male benissimo però dice sappi che il tuo fare qualcosa tipo andare da dottore o che in realtà è tutto una messa in scena è una cosa che tu fai perché lo devi fare perché il mondo richiede il mondo dove vi richiede ma non dimenticare che tutto è da Dio però devi andarci dal dottore però devi sapere che tutto è Dio non puoi non andare dal dottore e pregare soltanto e sperare soltanto Dio no questo è vietato capite da una parte Dio ci dice devi mettere il tuo impegno al massimo dall'altra parte dice però sappi che il tuo impegno è subordinato è Dio che fa tutto però devi farlo allo stesso su questo punto qualcuno ha da dire qualcosa da chiedere o aggiungere magari ok c'era un maestro della medicina che diceva io l'ho medicato Dio l'ha guarito bellissima bellissima io l'ho medicato Dio l'ho guarito bellissima Vittorio cosa dici tu? non è l'argomento di stasera però diciamo quello che è successo nella Shoah quando uno poteva anche pregare a Shem quello che voleva poi arrivava quello con la mitragliatrice che ti ammazzava sul bordo o ti spaccava il cranio con le mazze come è successo a Yashenovac con i miei parenti insomma non è l'argomento di stasera però molti ebrei si sono arresi arresi diciamo psicologicamente ecco ok infatti è un argomento proprio a sé è un argomento esatto a sé proprio a sé comunque il punto qua è devi fare ma sappi che comunque è tutto in mano di Dio ma tu devi fare vuol dire che quando tu lo fai tu stai obbedendo a Dio del fatto che devi fare qualcosa perché nel mondo fisico devi fare qualcosa perciò obbedisci perché Dio vuole per forza che tu fai qualcosa però non devi dire io ho fatto alla fine quando succede non devi dire io ho fatto io sono riuscito io ho aggiustato no Dio ha deciso di premiare la tua azione e ti ha aiutato a finire quello che tu umanamente non puoi fare Dio ha ascoltato le tue preghiere e vedendo le tue azioni le ha completate e ti ha salvato come dice giustamente il dottor Messina io l'ho medicato e Dio l'ha guarito e questo è esattamente quello che è l'ottica di come dobbiamo vedere ogni cosa perciò ciononostante non si riponga fiducia nella propria Ishtad Lut e neppure nel fatto che Hashem farà le cose la cosa migliore anche se non si fa nulla perciò la Ishtad Lut è sempre secondaria è subordinata alla volontà di Dio perché è vero che Egli può instillare nel cuore di chi qualcuno mi colpa non cese lo spenga perché è vero che Egli Dio può instillare nel cuore di chi che sia qualsiasi volontà anche se tu non hai fatto niente ma Dio può mettere nel cuore qualcun altro di portare salvezza in qualsiasi modo sia ma è possibile che ci siano dei calcoli che sfuggono per esempio che non è il massimo che si compia la propria volontà magari non per forza la tua volontà si deve avverarsi oppure Aschen desidera che quella persona espii parzialmente dei peccati e che lì giunga la salvezza in altro modo perché ci sono molti inviati per il Signore Dio ha molte strade di come far arrivare la sua salvezza e si invia a merito attraverso meritevoli chi è meritevole lui attrae a lui il merito perciò quando hai bisogno di salvezza cerca dei meriti se non hai già dei meriti creati dei meriti affinché tu possa attirare su di te la salvezza perché dice che appunto si invia merito attraverso i meritevoli hai bisogno di una salvezza fai qualcosa fai una buona azione aiuta una persona e Dio ci aiuterà a te come la famosa storia della figlia di Arabia Chiva non la ripetiamo che lei ha fatto la sera del suo matrimonio ha fatto una buona azione con un povero che è entrato l'ha subito accolto gli dato da mangiare e quella sera la sua vita si è salvata perché ha acquisito ha comprato un merito in questo mondo noi viviamo di meriti più meriti noi abbiamo e più i nostri problemi si allontanano si sciolgono o abbiamo la possibilità di superare questi problemi da parte nostra vuol dire è tutto così chi dà al sedaka a un povero perché diciamo che dare al sedaka allunga la vita perché tu quando dai al sedaka a un povero che gli dai da mangiare gli stai comprando la vita gli stai dando vita perciò dando la vita e ricevi vita tutti devono apprendere questo concetto dove lo vediamo in modo particolare il concetto della salvezza e del fare qualcosa dobbiamo impararlo da Giacobbe che si è preparato con doni scuse guerra e preghiera praticamente quando lui doveva tornare a casa dopo anni e anni che era a casa che si era sposato aveva fatto figli eccetera doveva ritornare a casa sua andare via da casa dello suocero gli viene detto che gli angeli vengono e dicono guarda che c'è Mosè Esau che ti sta sta venendo incontro di te con 400 persone che ti vuole uccidere perciò qua abbiamo Giacobbe che ha figli mogli ricchezze aveva tanta roba e sta tornando a casa Esau è ancora arrabbiato per la vecchia storia e gli sta venendo incontro per uccidere con 400 persone figuratevi Esau ha bisogno di 400 persone per uccidere Giacobbe il tzaddik ma questa è una storia a parte cosa fa in che modo reagisce Giacob lui si prepara nel viaggio prima di arrivare a Esau si prepara in tre modi la prima cosa è manda dei doni cerca di addolcire la situazione di addolcire Esau gli manda tanti doni ricchi tanta roba per dire e dice alla persona all'angelo dai queste cose a Esau dili che da parte mia dal suo servo eccetera eccetera Giacobbe perciò cerca di addolcire la cosa con dei doni poi ovvero chiede delle scuse quando è arrivato lì e si è inchinato davanti a lui per far vedere il segno di pace però Giacobbe anche se si era preparato con le buone lui era pronto mentalmente anche eventualmente era pronto anche a fare la guerra con Esau perché lui ha detto se il piano A e il piano B non funzionano io devo salvare la mia famiglia non posso permettere che lui venga a uccidere i miei figli i miei mogli se c'è bisogno farò anche la guerra il piano C e ovviamente le preghiere perciò ha pregato ha cercato di addolcire con dei regali ha chiesto scusa ha dimostrato pace ha sventolato la bandiera bianca per modo di dire e ha avuto fede in Dio ha fatto tutto naturale e sovranaturale poi alla fine come finisce la storia gli si sono abbracciati e Esau l'ha perdonato Esau gli cade addosso e piange sul suo fratello piange di emozione da tutto quello che Giacobbe ha fatto i regali e le scuse e inchinarsi le belle parole e questo e quest'altro alla fine anche uno come Esau che era proprio un rashà alla fine il suo cuore si è addolcito si è messo a piangere dall'emozione e bacia il suo fratello e finalmente il loro litigio finisce lì cosa vediamo qua? che lui Giacobbe un saddick poteva dire Dio Dio io sono il tuo braccio destro adesso in questa generazione mi devi salvare io la mia vita sei tu lui ha fatto però di tutto ha pregato a Dio e ha fatto anche qualcosa di lui ha fatto qualcosa per addirittura anche era pronto a fare la guerra questo è un principio basilare per evitare ogni disgrazia il titolo è salvezza giusto? come arrivare alla salvezza perciò ricordiamo che sempre la salvezza è tramite Hashem ma vuole che noi tiriamo che noi facciamo qualcosa ci adoperiamo per una salvezza proprio come ha fatto Giacobbe infatti dice questo è un principio basilare per evitare ogni disgrazia è necessario sia impegnarsi ovvero la Ishtad Lut impegnarsi che è la preghiera e ognuna da sola non aiuta Giacobbe non ha soltanto pregato un attimo chi era Giacobbe? era il tzaddik della generazione ma era il tzaddik che c'è scritto di lui l'uomo semplice Ishtam il sempliciotto che sta tutto il giorno in tenda a studiare Torah e lui il sempliciotto la persona buona e mite si era preparato anche a fare la guerra vuol dire che le ha provate tutte per salvare se stesso e i suoi figli e le mogli tutte le ha provate Dio la sua forza le parole belle i regali vedete anche una persona come lui che non è capace di fare la guerra la Torah viene a dire Ishtam Tamo è una persona semplice che tutto il giorno studia Torah è capace di prendere una spada e fare la guerra no non è la sua natura eppure si è preparato a farlo perché questo era il suo Ishtatut dopo aver fatto tutto ciò in base a ciò che si ha la possibilità di fare dopo che hai fatto tutto il tuo si attende alla salvezza di Hashem tu fai il tuo che Hashem farà il suo perché senza dubbio tutto ciò che compie Hashem lo fa per il bene lui sa come giostrare ogni fattore e alla fine giungerà qua dici il kavod ma si intende arriverà la salvezza perciò non bisogna stare a dire Dio salvami bisogna adoperarsi però sempre dire quello che io faccio comunque subordinato alla volontà di Dio questo è molto importante io voglio arricchirmi i soldi parlo di soldi soldi una persona non può dire soltanto Dio mandami la ricchezza come non può dire vado a lavorare venti ore al giorno e faccio tutte le gabole possibili immaginabili per guadagnare tu devi andare a lavorare decentemente senza impazzire non venti ore al giorno ma quello che è un lavoro normale perché poi hai una famiglia hai una vita eccetera però ricordati che il tuo sostentamento è direttamente da Dio e non di quanto impegno metti e quanto sforzo metti e quanto angoscia ti viene dal tuo lavoro da questo a quest'altro dicevo l'altro giorno con qualcuno la vita è troppo breve per viverla male specialmente a causa del lavoro e del sostentamento da parma abbiamo abbiamo soltanto 120 anni di vita è breve dobbiamo vivere bene se c'è una situazione nella nostra vita che ci fa vivere male la dobbiamo subito tempestivamente mettere a posto aggiustarla perché alla fine se uno vive male per diventare ricco per esempio allora bravo sei diventato ricco bravo però non hai vissuto non puoi dire alla fine dei tuoi giorni non puoi dire ho vissuto ho goduto dei miei soldi delle mie richezze perché? perché non è vero perché tutto il tempo arrivi malato poi ti ammali fisicamente e mentalmente per il lavoro che ti per il modo frenetico di come lavori e non soltanto alla fine non vedi tua moglie non vedi i tuoi figli non godi della famiglia perché perché sei sempre anche quando sei in casa fisicamente non ci sei perché la tua mente è nel tuo lavoro perciò non ci deve essere niente al mondo che possa distogliere una persona dal vivere perché una persona che vuole diventare ricco in un modo ossessionato magari farà i soldi alla fine ma non li vive e questo è un punto molto interessante molto importante tu fai il tuo se hai buoni meriti se hai se dai sedacà se aiuti Dio sa chi farà ricchiere chi magari non ha bisogno di essere ricco ha altre ricchezze e così via Dio sa a chi dare quando dare come dare quanto dare ripeto noi facciamo il nostro ma dobbiamo per forza fare lasciare a Dio che faccia il suo qualcuno ha da dire intanto che adesso parliamo di miracoli fra poco qualcuno ha da dire qualcosa qui sì certamente Rab perché mi è venuto in mente che anche all'uscita dell'Egitto a fine Galut per attraversare il Mar Rosso non è che si è aperto così per caso bravo hanno urlato hanno pianto e sono andati dentro i figli di Dan fino al collo e solo lì si è aperto poi a camminare l'acqua era già la gola lì dopo si è aperta giusto giusto grazie adesso miracoli nella vita è un capitolo molto breve una paginetta diciamo nella vita quotidiana scusi che pagina è? ah perdono 79 79 nella vita quotidiana siamo circondati dalle meraviglie circondati dalle meraviglie di Hashem con miracoli evidenti e a volta miracoli nascosti che si c'erano dietro le leggi della natura perciò il sole la luna le stelle tutto quello che vediamo sono dei miracoli però sono nascosti sono rinvestiti nella natura è una cosa naturale che ogni giorno ci sia il sole la luna però è un miracolo qui abbiamo dei miracoli evidenti miracoli super naturali o quelli naturali nella natura rendendosene conto si riescono a ottenere ulteriori miracoli quando tu discorso di prima la legge dell'attrazione quando tu ti rendi conto dei miracoli che hai ricevuto riesce a ottenere ulteriori miracoli noi viviamo ogni giorno almeno un miracolo la mattina quando ci svegliamo questo è il miracolo ma visto che succede ogni giorno e lo vediamo come fosse una cosa naturale è certo se vado a dormire vi devo anche svegliare non è vero ogni volta che ci svegliamo da letto è un miracolo però ormai diventa routine ok la cioca dice quando una persona si rende conto del miracolo che sta vivendo che sta ricevendo da Dio lui ottiene ulteriori miracoli vuol dire devi essere riconoscente devi capirlo prima di tutto devi capirlo ma poi devi essere riconoscente a Dio dei miracoli che ti sta dando perché quando tu ricevi qualcosa e non dimostri riconoscenza o non dimostri neanche di aver capito che ti è successo che hai ricevuto questo regalo questo miracolo allora chi ti sta dando perde vitalità perde passione nel darti quello che ti sta dando se una persona tu sei sempre gentile con una persona con delle persone però poi non perché vogliamo essere ringraziati non è quello però siamo umani quando tu ricevi e continui a ringraziare la persona che ti dà e li fai capire che apprezzi e così via la persona è più invogliata poi a darti è una cosa naturale ma non perché vogliamo gratificazioni o che no perché io do e lui mi fa sentire a mio agio mi fa sentire bene che capisce che gli sto dando perché molte volte tu dai 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 ma la persona non capisce neanche che gli stai dando e questa è la cosa peggiore di chi non neanche si accorge di quello che riceve perciò anche con Dio c'è questa idea di ringraziare sempre Dio di essere riconoscenti a Dio di ogni cosa che riceviamo perché questo porta a ulteriori miracoli a ulteriori buone cose che Dio ci dà chi ricorda le meraviglie del Signore Benedetto salva si salva dalla disgrazia chi ricorda i miracoli le meraviglie che Dio gli fa si salva dalle disgrazie il Midrash illustra e dice così a Kadosh Baruch Hu Dio non ha portato la Geulà la redenzione al popolo di Israele e non ha realizzato miracoli se non affinché li ricordino Dio porta i miracoli perché ha piacere che venga pubblicizzato il suo miracolo che venga ricordato come a Hanukkah per esempio tutta l'idea di Hanukkah è di pubblicizzare il miracolo tramite le candere che mettiamo davanti alla finestra eccetera perciò Dio fa un miracolo perché vuole che venga che venga pubblicizzato ricordato dice Re Davide se è così io li ricordo e che Hashem mi salvi fin qui sono le parole dei nostri maestri riportate anche nell'opera di Vashti in base a questo principio che Dio fa un miracolo e desidera che venga ricordato è bene e piacevole leggere il libro dei salmi in cui sono riportate le lodi di Dio in particolare se ci si sforza a compiere ciò che si dice Re Davide che ha scritto i salmi i tehillim lui aveva una vita martoriata scappava da un posto all'altro lo voleva uccidere eppure era miracolato e viveva miracolo su miracolo Dio lo salvava in ogni situazione e lui quando scrive i salmi ringrazia loda Dio con parole bellissime di ogni salvezza che lui ha avuto e questi tehillim sono forse la piacchiera più potente che noi abbiamo senza forze tehillim sono una preghiera potentissima che arrivano direttamente a Dio senza che gli angeli traducano perché? perché fa vedere che una persona come Re Davide nell'angoscia della sua vita e che era sempre rincorso lui era capace di lodare Dio per ogni salvezza che aveva in serbo per lui noi quando facciamo questo noi stiamo portando un po' della della santità che Re Davide aveva su di sé della sua salvezza perciò in particolare se ci si sforza a comprendere ciò che si dice meglio ancora tutto ciò che si legge o si dice a suo tempo porta bene e si raccontino i prodigi perciò leggere i salmi porta a miracoli ma più che altro raccontare raccontare i miracoli i prodigi o quello come vogliamo chiamarli gli atti di bontà che Dio ci fa raccontarlo in giro ai parenti agli amici a chi più possibile se ne parli con la propria moglie con i propri figli con i membri della propria casa in particolare in occasione in occasione in cui Hashem ha salvato miracolosamente il popolo in generale a Pesach a Hanukkah a Purim e così via perciò quando ti succede un miracolo ma non è un sottopo per forza un miracolo qualsiasi cosa di bene che Dio ti ha elargito dice qua raccontalo perché se tu pubblicizzi il miracolo che hai ricevuto prima di tutto Dio vede che tu sei grato e capisci che allora è più propensa a darti ancora ma dicendolo ad altre persone avvicini al cuore di altre persone a Dio perché fa vedere che Dio fa miracoli che Dio è presente che Dio ti aiuta ti ascolta così ci si dilunghi a raccontare le melaviglie di Hashem che ha compiuto sia a livello generale che a livello di popolo o di singolo così anche altri provranno amore e timore e timore di Dio e saranno introdotti a loro volta a raccontare i prodigi il suo di Dio essere tzaddik giusto redere meraviglia eccetera in questo modo il nome del cielo sarà reso più grande viene esaltato il nome di Dio e questa è una mitzvah su cui si prende un grande merito adesso voglio leggervi e vi racconto una storia quando una volta erano andati da dal Rebbe in udienza un gruppo di ragazzi del come si chiama del licei parlavamo tantissimi anni fa loro avevano un gruppetto di ragazzi hanno avuto un appuntamento un'udienza privata in un ufficio da Rebbe gli hanno chiesto tante domande Rebbe ha risposto ognuno ha una sua domanda e così via alla fine uno dei ragazzi ha chiesto una domanda un po' particolare e dice così Rebbe ho sentito che tu sai fare dei miracoli che ha coraggio che è così sfacciato di dire a Rebbe fai miracoli sappiamo che Rebbe ha fatto dei miracoli ha fatto tante cose miracolose preghiere che hanno funzionato eccetera ma non è bello di una persona tu fai eppure questo ragazzino l'ha chiesto il Rebbe gli ha risposto la possibilità di fare miracoli non è una cosa limitata soltanto a un certo gruppo di persone ai rabbini ai saggi ai profeti o che no dice ognuno di noi può fare un miracolo e dice così ognuno di noi ha un'anima che è divina una scintilla divina perciò ognuno di noi ha la forza di andare al di là dei nostri limiti fisici il nostro corpo fisico è limitato ovviamente è un corpo fisico però noi non abbiamo soltanto un corpo fisico abbiamo anche un'anima divina un'anima divina vuol dire una parte di Hashem se si può dire un pezzo se si può dire dentro di noi come tante volte abbiamo spiegato perciò quando hai un'anima vai al di là dei tuoi limiti fisici perciò fisicamente sei limitato ma nello stesso istante hai un'anima divina perciò tu sei divino allora cosa succede avendo quest'anima divina abbiamo la forza di andare al di là dei nostri limiti fisici e Rebbe dice così per spiegarvi meglio questo concetto e dice qua scrive e lo dice con un sorriso in faccia dice così ognuno in questa stanza decida adesso facciamo un miracolo insieme vi faccio vedere come si può fare un miracolo che anche voi potete fare un miracolo e dice così ognuno in questa stanza decida adesso di migliorare su un qualcosa in specifico qualcosa che lui vuole ognuno di voi scelga di migliorare un qualcosa un qualcosa che oggi che fino ad oggi non è riuscito a fare perché pensa che è al di là delle sue capacità ognuno ha dei limiti la maggior parte dei limiti vengono dalla mente siamo limitati perché mentalmente siamo limitati perché pensiamo di essere limitati perciò quale Rebbe dice ragazzi ognuno di voi sicuramente ha voluto arrivare a qualcosa ma non è arrivato perché ha dei limiti decidete di poter superare questi limiti di fare qualcosa al di là della vostra limite fisico dice se voi fate questa decisione in questo momento voi riuscirete ognuno di voi nella sua missione e vedrete e riuscirete a dimostrare a voi stessi che in realtà l'anima ha la forza di superare il limite fisico perciò ognuno di voi è capace di fare un miracolo e non solo io perciò lui ha girato questo concetto per dire che sì io sono ma tu ragazzino del liceo anche tu sei capace di fare un miracolo cos'è un miracolo una persona che domani si sveglia e dice io non accetto più di essere sottomesso ai miei limiti fisici perché io so che non sono soltanto un corpo fisico ma essendo che ho un'anima divina la mia anima è infinita la mia anima può fare tutto così come Dio è infinito può fare tutto anche l'anima che c'è in me che appartiene a Dio mi fa fare tutto perciò ho una parte che frena che è il mio fisico ma c'è una parte che vuole espandersi che è la mia anima allora quando una persona decide di non sottomettersi alla parte fisica ai suoi limiti del suo corpo bensì decide di espandersi utilizzando la grandezza della sua anima spirituale faccio la divinità che c'è in lui questo è il miracolo che riesci a fare un qualcosa che il tuo corpo riesce a fare però tu riesci a farlo perciò tutti noi possiamo fare un miracolo come quella storia non so se c'entra proprio ma mi viene in mente probabilmente c'entra che ognuno di noi può fare un miracolo sì c'entra la famosa storia che c'era questo Talmid questo allunno del Baal Shem Tov che tutta la sua vita aveva questo pallino lui voleva vedere la rivelazione di il profeta Elia Eliao Anavi andate al Baal Shem Tov tante volte una delle volte il Baal Shem Tov dice sai cosa fai questo questo quest'altro gli dà una scaletta di lavoro che forse durava dieci anni e meriterai di vedere la rivelazione di il profeta Eliao lui per dieci anni lavora fa esattamente quello che gli viene insegnato che gli viene richiesto questa preghiera questa concentrazione questo studio è passano i dieci anni che lui ha lavorato su se stesso non vede né il profeta e neanche Elia zero non vede niente va dal Baal Shem Tov tutto triste Baal Shem Tov ho fatto esattamente quello che mi è ma non è venuto come? sei sicuro? no sai cosa? tra due giorni è Pesach fai così prepara tanto cibo mazzote questo quest'altro vestiti per bambini giocattoli e vai in questa città in questo indirizzo bussa la porta porta tutte queste cose e spendi Pesach con questa e trascorri Pesach con questa famiglia lui non sa chi sono prende alla lettera fa tutto cibo mazzolo giocattoli vestiti e arriva a destinazione bussa la porta poco prima un'ora due ore prima di Pesach apre una signora con tanti bambini piccoli questa signora era vedova il marito non c'era e lei doveva accudire a questi bambini dice sono appena arrivato dal viaggio posso fare Pesach con voi la signora dice guarda noi non abbiamo neanche le mazzotte erano di una povertà tale che non avevano niente con cui festeggiare dice mi spiace non ho cosa offrirti una volta veramente la povertà era che si poteva toccare lui dice signora non si preoccupi io ho tutto ho da mangiare ho vestiti per i bambini ho tutto entra porta organizzano sedere velocemente e passano i primi due giorni della festa in un modo wow i bambini hanno mangiato ok lui finisce la sua cosa finisce la missione i due giorni di Hag finiscono torna indietro e va a raccontare al Barshen Tov che ha fatto quello che lui ha detto dice beh l'hai visto o no il profeta Elia no ma sei sicuro no il maestro gli dice senti guarda gli ultimi due giorni di Pesach di nuovo è festivo no fai la stessa cosa cibo vestiti eh vai nella stessa casa però stavolta prima di bussare Origlia ascolta quello che succede dentro la casa ascolta il maestro dice io faccio arriva prima di bussare ascolta ma questa è una storia vera non è una barzelletta non è una storia vera prima di bussare ascolta cosa sente bambini che piangono mamma mamma abbiamo fame non abbiamo mangiato da una settimana che c'era Pesach ma abbiamo fame e la mamma cosa risponde bambini non preoccupatevi così come il profeta Elia è venuto a Pesach e ci ha portato da mangiare vestiti per tutti voi il profeta Elia tornerà ancora cosa ha capito lui che era lui il profeta Elia cosa vuol dire che era il profeta attenzione cosa vuol dire che così come Rebbe dice che tutti possiamo fare un miracolo tutti possiamo essere il profeta Elia per qualcun altro lui aveva il pallino tutta la vita di vedere la rivelazione del vero profeta Elia eccetera eccetera ma il basso intorno gli sta insegnando ci ha messo dieci anni per capirlo che tu non hai bisogno di vedere la rivelazione del profeta Elia diventalo tu sii tu il profeta Elia per qualcun altro e quando lui ha sentito che l'hanno paragonato al profeta Elia che ha portato cibo e vestiti ha capito che questo è che lui era il profeta Elia ognuno di noi può portare salvezza al mondo ognuno di noi può portare salvezza a se stesso ognuno di noi può portare miracoli al mondo come il rebe dice fai un cambiamento vai non essere sottommesso alla tua dimensione del tuo fisico espanditi vai con la scia della tua anima non metterti dei limiti che non ci sono sii profeta Elia fai qualcosa di buono per il prossimo e tu sarai profeta Elia voglio raccontarvi una cosa molto personale che di solito non racconto non mi piace raccontare le mie cose personali ma per la lezione ci sta abbiamo detto prima che bisogna raccontare i miracoli per esaltare il nome di Dio c'è un altro concetto del raccontare che quando dici quando hai una preoccupazione nel tuo cuore lo devi raccontare a qualcuno in ebraico viene fuori come tante volte abbiamo visto che una parola può significare due cose quando dice un problema nel tuo cuore raccontala a qualcuno la parola yesigenna racconta non può vuol dire raccontare ma può vuol dire anche distogli il tuo pensiero da quella cosa che ti angoscia perciò hai una preoccupazione hai due opzioni numero uno non pensarci distogli il tuo pensiero numero due dice che è lo stesso verbo no raccontalo a a qualcuno raccontando una tua problematica una tua angoscia a qualcuno ti farà star bene su questo punto qua di raccontare a qualcuno il rebbe aggiunge a qualcuno che è vicino a te a qualcuno che ti capisce che ti può dare un consiglio buono perché è connesso con te perciò non che vai a frutti vendolo c'è tanta gente vanno a fare la spesa e raccontano gli affari proprio al furti vendolo al macellai in Italia è una grande moda la spesa che puoi fare in dieci minuti ci metti un'ora e mezza perché vai a raccontare le tue cose ovviamente non si intende qua vai a raccontare al primo vai a raccontare a qualcuno che ti può capire a qualcuno che c'è la tua altezza donna qualcuno che ti può dare un consiglio spassionato oggi io avevo una preoccupazione un qualcosa avevo in mente e non sapevo come mettere a posto questo problema questa cosa questa preoccupazione da una parte sapevo che ovviamente siamo persone credenti sapevo che tutto è da Dio e Dio sa come se mi metti in questa situazione appunto fede farò e Dio aiuterà lo sapevo però comunque avevo preoccupazione non so se vi è successo da una parte sapevo che è tutto da Dio e che Dio mi aiuterà ma nello stesso momento sono umano no? non sono un super robot essendo umano avendo anche io un cuore un po' di preoccupazione c'era pur sapendo che comunque Dio mi aiuta è una situazione molto strana due poli opposti che si incontrano io c'ho un piccolo profeta Elia una persona nessuno di voi lo conosce si chiama Massimo non dirò il cognome per la sua privacy ma comunque nessuno lo conosce cosa succede gli racconto questa cosa qua a lui lui è una persona molto vicina a me anche se abita lontano da Milano è una persona molto di cuore una persona che io stimo allora gli ho telefonato e gli ho raccontato la mia preoccupazione già mentre raccontavo credetemi mi sentivo già più leggero già sai quando hai mi sentivo già più rilassato poi quando lui mi ha risposto quello che mi ha risposto mi ha tranquillizzato ancora di più lui è il mio profeta Elia una persona che è molto connessa con me mi ha capito al volo mi ha detto delle cose e mi ha tranquillizzato e mi ha aiutato io stesso lo sono Elia per tanti altri ma in quel momento anche Elia aveva bisogno di un altro Elia perciò questo di punto è questo qualcuno spenga il microfono per favore il punto è questo ognuno di noi deve essere un miracolo per qualcun altro un miracolo per il mondo il profeta Elia per qualcun altro e questo è il punto tutti noi possiamo fare miracoli tutti noi possiamo portare bene luce al mondo a volte basta veramente poco basta ascoltare una persona e non alzando gli occhi tanto lui non mi vede al telefono che barba quanto parla quanto chiede quanto si dilunga no ascoltare una persona con dando cuore interesse a quello che ci sta raccontando per poterlo aiutare veramente non possiamo tutta la vita vivere soltanto per noi stessi ho da fare questo non posso ascoltare e poi e poi cosa rimane c'è questo continuare a avere da fare eccetera eccetera poi diventiamo disumani umano cos'è uno che vive in mezzo ad altri umani uno che può ascoltare il prossimo uno che può dare il suo tempo al prossimo uno che può dare un consiglio al prossimo allora a volte diamo agli altri a volte abbiamo bisogno anche noi di ricevere il Rebbe dice che ogni persona al mondo deve avere un rabbino ovvero una persona un rabbino che gli chiede domande che che ti insegna che sa indirizzarti quando tu hai bisogno dice ognuno deve avere un rabbino anche un rabbino deve avere a sua volta un altro rabbino ovviamente più grande di lui più studiante ogni rabbino deve avere un altro rabbino un mentore un qualcuno che ti ascolta un qualcuno che è ti fa star bene vuol dire che tutti noi possiamo fare dei miracoli niente volevo condividere c'entrava tanto quella lezione e mi è successo oggi Massimo saluto che domani lui ascolterà questa lezione lui non si trova nei social non si trova niente ascolta tutte le lezioni il giorno dopo lui non sa neanche che parlerò di lui stasera ovviamente però il messaggio a tutti è di essere il profeta Elia per qualcun altro e quando tu dai ricevi poi a Shem ti manderà un altro profeta Elia ancora più grande tu sii per qualcuno e tu riceverai a tua volta qualcuno che ti possa rincuorare aiutare nel momento del bisogno prego posso dire due cose Rav certo allora io posso dire che quando si va da un medico qualsiasi medico professore dottore invece di pregare per se stessi si dovrebbe dire una preghiera che a Shem lo illumina giusto perché il dottore in un momento pensa una cosa e scrive un'altra e sta pensando ancora una terza cosa lui infatti c'è scritto viene dato dal cielo il permesso al dottore di guarire non è lui che ha studiato sicuramente ha studiato è capace però è Dio come dice lei è Dio che guida le sue mani è Dio che lo illumina la guarigione tramite lui esatto che Dio lo illumina questa è una cosa sicura esatto poi quando non è illuminato dottori o uno diciamo sta in mezzo a una situazione un po' pesante o difficile mi è capitato ho fatto tutte le famose ricerche che potevo fare e non sapevo che avevo un fuoco di Sant'Antonio ecco sono rimasta 20 giorni con le ricerche a un certo punto siccome non si dorme con quello stato e non si poteva stare bene ha detto ai miei figli o mi prendete in un ospedale credo che io forse adesso devo essere rivoltata controllata oppure allora uno dei miei figli ha detto facciamo una sedaca e così abbiamo raccolto ognuno ha dato la sua parte e questo è un miracolo perché io se io dico che quel giorno pomeriggio è venuto un giovanissimo dottore e mi ha detto ma aveva dei frungolini qui sulle braccia sì e quello allora ha avuto il fuoco di Sant'Antonio e io non lo sapevo perché io in Israele già avevo fatto le ricerche nessuno aveva capito sono andata a Roma ho fatto di nuovo tacche tutte quelle famose cose che si fanno per vedere se era una nevralgia che poi non era una nevralgia allora io ho capito con la sedaca in quel momento che mi ha detto la parola sedaca già ci si è aperta un po' la luce diciamo e poi è venuto un medico e ha capito e mi ha guarito allora lo dico a tutti perché perché è una vera realtà che mi fanno tutti presenti e hanno partecipato con molto cuore vabbè ho detto una cosa che mi è successa qualche anno fa grazie grazie Ingrid è molto importante che quando qualcuno racconta la sua esperienza sì è molto importante arricchisce la lezione sì grazie e poi poi uno sente che c'è Hashem che sta vicino c'è niente da fare allora grazie 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 volevo chiedere una cosa buonasera di nuovo allora ci sono però alcune limitazioni perché io ho un amico che mi spiega il suo problema che è un problema molto grosso forse è un problema familiare è un problema complicato forse in quel momento io lo ascolto lo ascolto col cuore gli do i miei consigli e gli do forse un po' di di crema sulla sua ferita però finita la mia chiacchierata con lui e il suo problema resta e quindi ritorna costantemente al punto se la cosa dura per anni è pesante hai usato delle parole molto giuste gli hai messo un po' crema l'hai ascoltato ecco quello è quello che lui ha bisogno in quel momento molte volte le persone vengono a raccontarci cose non per forza vogliono sentire la tua risposta vogliono vedere che tu li stai ascoltando con quattro occhi e sei orecchi vuol dire io sono qua per te non posso aiutarti perché non sono un chirurgo non sono un avvocato non sono un psicologo però sono qua con te ti ascolto ti do il mio tempo questo per questo tipo di persone è il balsamo più grande che tu possa dare per la loro anima però quando chiudo il telefono ritrovo il problema no e quando ti richiama che torna il problema è diverso no chiamerebbe tutti i giorni starebbe al telefono con me ore e ore però non si può però giustamente ci sono anche delle cose che se certo la scena pensa a tutto però ci mette alla prova anche per lunghi tempi e ogni tanto la gente sballa un po' io quando vedo che una persona ha bisogno gli dico guarda che è una mitzvah andare da psicologo per esempio gli dico io fino a qua posso arrivare da qui in poi è necessario che un psicologo ti possa indirizzare in un modo migliore di me e dico che non ce ne sono vergogna anzi è un bene per se stessi a volte consultare un professionista prova a dirglielo se tu pensi che lui ha bisogno prova a mandarlo dal professionista del caso è più complicato di quel che si pensa può non essere direttamente lui può essere qualcuno della sua famiglia comunque una cosa complicata che può mettere in difficoltà una persona sì lo so ma molte volte quando noi non sappiamo in realtà cosa rispondere basta ascoltare esserli presenti a muire fargli capire che percepiamo il suo dolore e credimi questo veramente mettere cioè la mia paura rimane anche quella che come diceva Vittorio prima quando alla Shoah venivano gli spaccavano la testa gli sparavano lo stesso alla fine rischiavano anche di perdere la fede io non vorrei che una situazione di questo genere possa portare anche visto che la cosa poi diventa prolungata avere anche un attimo di squilibrio e di perdere anche un po' la fede posso dire una cosa? no no a te? no no a me no a lui? a alla persona che? sì 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 che a mia sono io Laura sì no volevo rispondere a Samuele allora Samuele ti posso dire per esperienza che momenti situazioni difficili momenti difficili si passano tutti ma veramente veramente difficili noi passiamo abbiamo passato un periodo veramente da battere la testa nel muro ma se non avessimo avuto la fede io non lo so come riesce a superare certe situazioni nel senso che più di una volta guarda io mi sono trovata un giorno che ero veramente veramente disperata va bene cosa ho fatto io cioè o avrei ammazzato qualcuno io ho preso la macchina sono andata a 20 chilometri da casa mia c'è un bellissimo lago mi sono seduta sul lago a fare mincha che io non sono poi così tanto una pregona però io ero veramente disperata ok a fare mincha ho detto io mi devo calmare sono tornata a casa e la cosa è passata però i problemi non è che non li cioè i problemi devi per forza risolverli però la fede ti aiuta ebbene anni dopo io davanti a questo lago c'è una scuola media io ci sono andata a lavorare per due anni in quella scuola lì cioè però quello che voglio dire no che quando si è nella situazione ti sembra veramente di non riuscire a uscirne allora alzi io quando sono veramente disperata io alzo gli occhi al cielo e gli dico oh ma cosa vuoi da me ma mi devi aiutare ma guarda che io sono veramente arrabbiata e credimi che la risposta arriva l'aiuto arriva ma ci vuole tanta tanta fede anch'io pensavo di non averla ma la fede mi ha aiutato e lo studio mi ha aiutato anche a rinforzare la fede le monate mi fermo grazie esperienza personale esperienza personale grazie mille grazie mille Laura grazie qualcun altro d'accordo con Laura arriva proprio la risposta oh buonasera ecco vuole raccontarci qualcosa eh no nel mio caso è un po' pesante non bastano otto ore di lezione no non basta va bene ok comunque ok qualcun altro vuole ancora dire qualcosa Claudine vuole dire qualcosa non ci sentiamo succedono delle prime cose quando uno crede è vero ma succedono proprio ho avuto l'esperienza di mia figlia l'ultimo figlio che non era podalico e lei non voleva assolutamente fare il cesareo lei ha avuto due cesarei e tre e poi tre parti normali e tutti i medici dicevano che non era possibile che poteva partorire e lei era era disperata era proprio disperata perché lei col cesareo ha sofferto troppo e poi è successo che il bambino si è girato in un momento suo che insomma ha veramente desiderato poi questo bambino perché poi alla fine purtroppo è brutto dirlo però si arriva anche con pensieri che insomma che è perché uno soffre così tanto che poi alla fine Ascema ha aiutato e non solo si è girato ma quando è nato col parto naturale io l'ho aiutata tutto il travaglio con lo yoga con la respirazione eccetera un'ostetrica venne e ci disse dice guardi è nato nel miglior modo nel miglior modo possibile cioè se questo non è un miracolo e diciamo guardi sì questa è Carol sì Carol con tutta la palestra che fa il fisico era forte Baruch Hashem sì sì Baruch Hashem grazie grazie qualcun altro vuole ancora dire una sua esperienza o chiedere qualcosa buonasera buonasera più che alzare la testa al cielo e chiedere al Signore ci sono tante volte che alzi le mani comunque vabbè in questo cammino che sto facendo non essendo né carne né pesce e avendo perso nel mio tragitto tutti i miei amici dell'infanzia il mio proprietario è Samuele Fiss e per questo lo voglio ringraziare ma io penso che lo siete l'uno per l'altro perché anche lei e Gigli ha fatto tanto per lui se oggi lui vuole ogni giorno al Tempio è grazie alla sua parola perciò siete veramente l'esempio di cos'è uno per l'altro wow wow grazie grazie mille di questo bellissima bellissima grazie grazie dottor Messina accenda però prima accenda il microfono mi sta venendo in mente un brano della Midai un altro del V2 e Gigli è uscito perché era commossa non riusciva a stare qua è uscito ok sì quando dice quindi mette le nostre anime le nostre vite e poi immediatamente dopo dice quindi ci sono due ruoli il nostro che dobbiamo fare secondo la nostra vita secondo la nostra anima e il tuo che devi fare i tuoi miracoli le tue meraviglie cioè ci sono questi due aspetti di cui si ringrazia perché con gli uom e poi nel V2 alla fine dice alla fine metà cioè tu sei giusto di tutto ciò che ci mandi qualsiasi cosa che ci mandi è giusto siamo noi che dobbiamo vedere il giusto in quello che ti viene mandato e anche qui ci sono i due ruoli perché dice ci siamo allontanati dai tuoi precetti dalle tue regole e non ce n'è venuto niente sì e poi dopo diciamo tutto quello che viene da te invece per noi è buono insomma ecco quindi c'è sempre questo aspetto siamo allontanati da te pensando che magari quella cosa che stiamo facendo non ce n'è venuto niente ci porta e invece non ci ha portato niente esatto mentre tutto quello che viene da te è buono esatto quindi bisogna vedere bisogna vedere in bicchiere sempre mezzo pieno insomma grazie grazie mille grazie mille Davide oh ecco quello che mi ha fatto riflettere molto a parte la toccante la toccante il toccante il toccante miracolo che ho vissuto di Egidio e Samuele che non è delicato proprio molto bello peccato che è uscito Egidio ma posso capire la commozione forte lo stato di commozione forte era chi ha preso e quello che invece penso io è per colpa anche un po' di mia moglie che ogni volta che mi capita qualcosa di strano buco una gomma e mi arrabbio no? e invece c'è mia moglie che mi dice e questi sono i tipi di miracoli che non sappiamo che è successo un miracolo che non è naturale è sovranaturale però mi dice sempre Gamsule Tova mi dice sempre il mio modo perché? perché magari non si sa mai in quel tempo che io cambio la gomma o che mi devo fermare o che c'è un imprevisto poteva succedermi qualcosa di molto peggio io non posso dire che è un miracolo avvenuto però lo posso sospettare come dicevi e come dicevi a livello psicologico a Samuele sempre mia moglie appassionata di Avram Zversky e ogni tanto e ogni tanto mi capita di sentire questi Shurim neanche i Shurim questi trattati scientifici che fa in trasmissione in cui parla di parecchie ma parla in modo molto interessante di queste cose e quindi riuscire a anche trovare uno specialista a quel livello può aiutare molto perché univa molto l'aspetto della Torah l'aspetto psicologico e l'aspetto poi della psicologia e della scienza quindi è molto interessante comunque io cerco di fare Zedaka preventiva comunque interessante il discorso da cui siamo partiti all'inizio ringrazio tua moglie dica la famissima diceva interessante il discorso da cui siamo partiti all'inizio la battuta delle tre barche ma io ti ho mandato tre barche il problema è capire quali sono le barche che molto spesso noi non riusciamo a vedere che quella è una barca esatto esatto quindi bisogna guardarla anche con un aspetto un po' critico come dice giustamente David mi fermo perché ho bucato una gomma ma non so cosa sarebbe successo se la mia barca quindi quella può essere una barca insomma esatto molto interessante fantastico fantastico Baruch Hashem